Gli ultimi 5 chilometri per centrare il Guinness World Record di triathlon sulla lunga distanza, uno dei più duri da realizzare, ha deciso di percorrerli al Parco Pertini ad Arezzo. E infatti è retino all'Iron Man da Record e risponde al nome di Tommaso Fusco, atleta di 22 anni. Mi fa piacere perché ci sono molti amici, molte persone, è comunque sempre bello il fatto che ho fatto la maggior parte delle corse qui, quindi mi fa piacere finire e concludere qui nella mia città. La sfida, sostenuta dalle associazioni Lardita e Arezzo Gravel, è stata annunciata lo scorso 14 maggio, tre giorni dopo la partenza verso la conquista di un doppio obiettivo, il primo completare 41 half Ironman consecutivi, il secondo realizzarne 71. In totale ho percorso 8.000 chilometri qui nell'Aretino, giornalmente ho dovuto fare 2 chilometri di nuoto, per la maggior parte del tempo ho nuotato al lago Trasimeno, qualche volta occasionalmente in piscina, poi ho fatto 90 chilometri di bicicletta qui nella Valle di Chiana e 21 chilometri di corsa. Saltuariamente, cioè per 5 volte ho dovuto fare questo esinerario per 2 volte di fila nello stesso giorno, per circa 14 ore nell'arco della giornata, per finire prima perché il caldo mi spaventava molto, infatti anche oggi abbiamo scelto questo orario perché c'era un po' meno caldo. Tommaso così ha conquistato ben due record mondiali in questa difficile disciplina sportiva. Sicuramente mangiare bene e tanta tanta testa, quindi assolutamente è importante vivere alla giornata e non pensare mai al traguardo completo, quindi chiaramente fin dal giorno 1 pensavo solo al giorno 1, diciamo così, perché sennò impazzisci e la sfida prevarica su quella che è la tua motivazione nel farlo. Un record all'insegna anche della solidarietà, Tommaso infatti è diventato social runner, aprendo online una raccolta fondi per sostenere il lavoro umanitario di Oxfam per portare acqua pulita nelle comunità colpite dalle più gravi emergenze umanitarie del nostro tempo. Unisciti a me, insieme possiamo fare la differenza a fianco di Oxfam Italia.